Buongiorno a tutti, siamo qui a registrare questo video dove parliamo di Milan Verona giocheremo domani alle ore 15 parliamo di Milan Verona vedo un Milan favorito ma in Verona pure non è messa male in classifica sarà una scubattia ventodosta difficile vediamo cosa riusciamo a fare e spero di portare a casa il mio riesce a portare in casa i tre punti che sono fondamentali in questo momento della stagione e nella classifica il mio avviene da partite positive un pareggio con la Sampdoria vittoria con Brescia vittoria con Cagliari vittoria con la Spal vittoria con Torino vittoria con Ludinese tra Coppa Italia e campionato quindi vittoria con Torino però in 90 minuti pareggio vittoria supplementare in Coppa Italia l'ultima partita Milan con grandi rumi con a meno di due gol a partita infatti i due gol a partita è un momento positivo si vede a Milan la Eurodip ha aiutato moltissima la squadra in caso al mercato il novito mercato il sale max non saprei chi è ma viene da quello dell'Anderlecht è ufficiale a Milan dopo che abbiamo venduto Suso Rodighex e Piontek venduti questo sale max era pure Robinson dell'Aston Villa il sale max mi sembra non so se è a titolo definitivo e Robinson arriverà con un prestito di 6 milioni forse sale max con un diritto di scatto prestito e diritto di scatto se non sbaglio comunque il video finisce qua è un video piccolo scusatemi o per fare vari impegni non puro fare il video molto lungo vi invito a scrivere nel mio canale il mio canale youtube lasciatemi un like in questo video condividete e commentate e iscrivetevi sul mio profilo Instagram seguitemi sulla mia pagina Facebook su Facebook sono purissimo attivo pubblico però di più i link dei video però se volete seguirmi pure là mi fa piacere è sul mio profilo TikTok seguitemi pure là pubblico ogni tanto TikTok un po' al cancio e qualche piccolo spezzettone del video e quindi il profilo di TikTok è il milanista paratrofica e ci vediamo al post partita di Milan Verona e bene male forse mi riasperiamo per la vittoria